Comunque, senti, io voglio aprire la parentesi MasterChef Ah, eh, vai, oh, ci siamo 45 minuti di tempo a partire da ora Più giovane vincitore di MasterChef di sempre, tra l'altro Ancora imbattuto Ma di tutte le edizioni al mondo Ma te pensavi, cioè, quando sei arrivato pensavi che avresti avuto una possibilità di vincere oppure sei andato così Io sono arrivato che i miei genitori mi dissero Guarda, fai le selezioni di eventi Però sappi che il programma non lo, cioè noi preferiremmo che tu ci sia a scuola Ma bene da te l'idea, sì, a questo punto Io mi iscrissi al programma una volta che stavo diciamo, ero sul trono, in quel momento lì e dico, vabbè, mando l'iscrizione Proprio la cazzo Cioè, che vuoi dire, eri sul trono? Ero sul cesso Ah, vidolo! Nel momento dovessi fare i migliori affari, insomma Quello è sotto la doccia Sotto la doccia pensi tipo, cazzo, ma quella persona lì avrei potuto rispondere così E cominci a meditare sulla doccia Mega discorso Mega discorso Ti fai, no, beh Poi Dico, vabbè, mando l'iscrizione L'ho mandata Ma ti sentivi sicuro? Cioè, come No, anzi, io Ma allora Io sono andato lì e dice, noi vediamo come va Poi i miei quando sono entrato ho detto, guarda noi non ti potremo mai non fare andare Vai, la scuola recuperi sti cazzi Entri Perché, giustamente è un terreno che passa una volta Io ho detto, vai, l'unica cosa spero di non arrivare il venultimo Perché, cioè Oh, almeno arriviamo penultimi, cazzo Vabbè, però è il ribello sicuro di te stesso Anche nel provino Ero sicuro di me stesso perché non è sicurezza è saper quello che sai fare Io sono umilissimo Quando non so fare una cosa te la dico Però quando so fare una cosa ti dico anche Oh, la so fare Cioè Sti cazzi la so fare Ma scusa andando un pelino indietro tutta quella roba a 18 anni dove l'avevi imparata? Ma da io mio papà mio fratello mia amma sempre stati buona fracchetta grandi amanti della cucina quindi da sempre io sono cresciuto con i programmi di cucina Ok Gambero Rosso tipo Sì, ma proprio anche programmi proprio Giorgione 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 sono anche andato a mangiarci da Giorgione Mio babbo è un mio grandissimo fan ma io sono andato a mangiare da Giorgione che avevo 14 anni quindi ero piccolino era cioè Giorgione era il primo Giorgione quello che era così Tevi, Tommaso ci avevi 16 18 18 anni quindi ho detto proviamo poi io sapevo che comunque qualcosa sapevo fare però dicevo sti cazzi se quelli sono tutti molti più grandi di me saranno tutti più grandi di me io vado lì faccio la mia partita e vediamo poi sono entrato sono entrato un po' ho detto vabbè sono nei primi dieci sono entrato nei primi dieci ho detto adesso cominciavo comunque un po' a voler magari arrivare da subito io ti giuro da subito ti favo Valerio eri un personaggio diverso dagli altri spiccabili ma sai perché? ricordo che Cracco ti prese un po' sotto l'ala protettiva e a me era super con me era super critico ma ti voleva bene si vedeva tornando indietro gli posso dire solo grazie infatti io lui è stato il critico in cui mi sono più legato di tutti dopo anche Masterchef nel senso capita ogni tanto che lo sento gli ho fatto gli auguri di compleanno di Natale perché giustamente è una persona che per me ha avuto un grande significato poi c'è differenza tra il Masterchef che vediamo noi a casa e quello che vivi tu ma allora diciamo che i tempi delle prove e certe cose sono tutte quelle nel senso tu quando vedi il piatto devi replicarlo veramente passano due secondi cioè te veramente non sai cosa c'è sotto la mente no no alzi la cloche però quando assaggiano i piatti tipo quanto tempo passa? passano tante ore passano almeno tre o quattro ore e quindi te magari prepari un piatto loro ti dicono sempre lasciane un pochettino fanne un'altra porzioncina piccola da parte che i giudici quando poi si spengono delle camere che noi usciamo perché dopo la prova noi usciamo per l'assaggio che loro fanno il shooting a tutti i piatti i giudici magari assaggiano già quindi sanno già dirti se un piatto è buono o no lo sanno già prima poi quando assaggiano il piatto finito concretizzano che sia vero cioè comunque diciamo chiudono il cerchio comunque se passano quattro ore sono freddi sono freddi sì per questo io ad esempio non farei mai un filetto di manzo cioè tipo anche un piatto di pasta dopo quattro ore come fanno a dire loro dicono fanno una porzione piccolina che lasci giù una scosta che poi magari i giudici assaggiano subito dopo la prova così sanno già se la pasta è buona o no ah ok quando lo assaggiano in televisione è puramente un confermare il loro pensiero che già avevano fatto c'erano fatti quello dei mostri è quello che viene fotografato quello che loro assaggiano è qualcosa loro assaggiano anche quello che viene fotografato però magari se ti rimane dicono lascia qualcosa più in padella così i giudici assaggiano subito e ci sta ragazzi perché comunque è un bellissimo programma non rappresenta la vera cucina perché la cucina quella vera dell'eco di cucina è un'altra cioè io la cucina 14 ore al giorno è pesante però sti cazzi ma invece un'altra cosa che mi incuriosisce ma quando fate le prove che a volte visto che sono 45 minuti un'ora di prova però si vede poi 3-4 minuti ma in tutti quei reali 45 minuti un'ora quanto vi aiutano? pochissimo niente zero proprio anzi devi correre perché loro non ti aiutano anzi se ti possono lasciare in merda ti lasciano la merda ma scusa e quando ti danno delle ricette come fai a ricordarti qualsiasi quantità di qualsiasi ingrediente cioè puoi aprire internet e guardare ma il telefono te lo sequestrano appena entri alle 8 di mattina e te lo ridanno a mezzanotte quando esci e come fai a sapere i dosaggi di qualsiasi cosa? devi avere la memoria madonna devi avere la memoria perché non puoi neanche parlare con gli altri poi durante la prova quindi devi stare super devi avere tutto io le dosi della pasticceria me le avevo imparate come l'Ave Maria fazzesco invece dell'Ave Maria dicevo 50 grammi di zucchero 50 grammi di burro 3 night ti danno del materiale da studiare tipo libri a noi no a noi zero poi ti dicono magari suggeriscono il giorno che non girate o quando comunque tornate a casa studiate qualcosa io non ho mai mai studiato io tornavo a casa dormivo e facevo i cazzi miei uscivo la sera perché per me la cucina non è dire devi studiare vai a studiare per me la cucina è un'altra cosa io studio nel momento in cui ho l'interesse e a me l'interesse per la cucina di studiare mi viene a tutte le ore del giorno ma se tu mi dici studia questo a me lì mi scema cioè io quando tipo sono in cambio menù e mi dicono entro domani devi uscire col menù devi fare due piatti nuovi per il mio ristorante lì non mi viene l'ispirazione perché quello diventa un dovere giusto quello diventa un dovere se invece io normalmente quando ho una scimmietta nel cervello che mi dice come si fa a fare quella cosa lì sto pure alle 4 del mattino mi sveglio allo studio alle 4 del mattino non ho problemi basta che non ci sia nessuno a dirti cosa fare esatto deve partire tutto a me però sono curioso lato Masterchef sono curioso una cosa perché si vede tanto l'evoluzione del personaggio cioè io mi sono appassionato a Masterchef con l'edizione dove arrivò Gilberto mi sembra telefinalisti forse erano dopo il tuo no due distioni dopo la mia io vedo proprio i concorrenti che all'inizio a malapena sanno tenere un coltello in mano arrivano alla fine fanno fanno roba fuori dal mondo cioè per forza ci deve essere una preparazione alcuni da noi non hanno fatto nessun corso nel senso è venuto una volta una persona prima a insegnarci come si fa la pasta sti cazzi vengo dalla famiglia se non lo so fare ho preso le basi del gelato i sorbetti i granite o sfidettare ma personalmente quelle lezioni lì io non ci andai neanche perché quell'epoca mi venne la febbre quando c'erano quindi ero a casa con la febbre non ci andai neanche ma erano lezioni erano tre lezioni da un'ora l'una basta in una stagione intera quindi non impari un caso sì sì in un'ora e si è che la gente apre internet e studia perché giustamente quando sei lì entra nel meccanismo che parli sempre di cucina quindi un po' ti viene la scimmia ad andare sul telefono quando sei a casa e giustamente studiare cioè loro ti dicono quando andate a casa studiate chiaro chiaro cercate di far vedere che migliorate ma i giudici sono cioè tipo fuori dalle telecamere quando si spengono le telecamere come sono sempre non puoi avere rapporti con i giudici ah perché sennò c'è favoritismo ti tagliano completamente i rapporti ma personalmente non me ne fregava un cazzo di avere rapporti con i giudici ma perché non trovavo cioè io ragazzi tornavo a casa a mezzanotte che dovevo andare a fare il leccaculo dei giudici ragazzi andavo a casa mangiavamo dormivamo e doccia e letto e poi e poi si riparte quanto dura per voi una stagione di Masterchef tre mesi ah tre mesi ah boh più o meno quanto il programma il programma parte a dicembre finisce a marzo dura tantissimo registri quasi tutti i giorni almeno 5-6 su 7 c'è tanto tra quello il magazine poi nascono le rivalità poi potrei concorre aspetta aspetta ma poi come si fa tipo te sapevi di essere il vincitore prima di della messa in onda non puoi dirlo sennò devo pagare una penale che non mi posso permettere neanche non puoi postare ah te lo sapevi di giacchiere ah no no pensavo prima che non cessero i giudici quando lo dicono i giudici te sei lì che non sai chi ha vinto però te lo sapevi dai si vedeva dalla faccia no zero zero proprio io ero stanco ero tanto stanco a livello fisico perché comunque la mattina mi ero svegliato alle 4 perché giustamente un po' di ansietta c'era però no zero cioè tant'è che dopo la mia vittoria hanno fatto il festone tutti fino alle 3 del mattino e la festa è cominciata alle 8 di sera io alle dopo la premiazione la festa non ci sono neanche andata la festa di Valerio senza Valerio era la festa della mia vittoria io ho preso me ne sono andato via sono andato via con mio fratello sono andato in camera però te eri l'unico ci sono battuto i coglioni alla festa poi io ragazzi non bevo bevo pochissimo quindi da noi bevo vera no bevevo all'epoca poi ero proprio stemio quindi adesso bevo qualcosina però già all'epoca ero stemio quindi sti ragazzi sono poi ero 18 anni ragazzetto vengo da un paesino quindi non è che se fossi cresciuto a Milano magari avrei avuto più la cosa di fare che cavolo ha 18 anni vincere master e ho un ragazzetto che era da un paese di 20 mila di tanti cioè tranquillo ah un'altra cosa ti volevo chiedere scusami le prove esterne quelle come anche lì vai in giro quelle erano belle l'unica cosa quando abbiamo fatto quella di Matera subito dopo la prova ci hanno portato in aeroporto per andare via e io all'epoca avevo vinto la prova e mi erano caduti in testa 25 kg di farina e quindi io sono andato in aereo con i tacconi di farina nei capelli non ci hanno fatto fare neanche la doccia io ho fatto ho passato ho fatto Matera Milano in aereo tutto bianco di farina senza neanche essermi cambiato perché non avevo il cambio perché non ci hanno fatto cambiare e io avevo tutto infarinato minchia sembrava che mi fossi buttato da sorbillo forse negli anni è un po' migliorata all'organizzazione dobbiamo vedere qui negli ultimi anni pensa se ti vedeva la polizia antidroga lì all'aeroporto già io una volta ho avuto un problema che sono andato a Bruxelles con un mio amico con un mio amico quando siamo passati a cose è suonato il coso della valigia io gli ho detto occhio alla bomba occhio alla bomba questo era l'italiano la sicurezza l'ha sentito hanno fermato tutti se una bomba lo dice una figura di merda ma guardate come si volesse incelerire quindi evitiamo